Come aumentare così le prestazioni di FPS sul nuovo Black Ops 6 e Call of Duty Warzone? Quindi, in questo caso, grazie anche alle impostazioni di NVIDIA per le schede grafiche NVIDIA, noi possiamo usare e sfruttare al meglio il programma NVIDIA App che ti ho lasciato in descrizione, scarichi e installi così le versioni beta. Per quelli invece che hanno AMD, c'è il programma AMD Software Adrenaline Edition. Non posso farti vedere come funziona questo programma, però è come NVIDIA App. Per configurare così la grafica sui giochi e aggiornare anche i driver per non avere sempre problemi di crash o problemi all'avvio sui giochi. Quindi, scarichiamo e installiamo la versione beta di NVIDIA, vai direttamente su Grafica, ti uscirà Call of Duty Modern Warfare 3 qua sopra, che sarebbe Call of Duty, oppure un altro Call of Duty qua sotto. Ma in verità è questo qua, che è tutta una sola cartella con tanti Call of Duty all'interno. Quindi vai direttamente qua sopra, se non c'è in questo elenco, ti consiglio di avviare Call of Duty, giocare, e poi dopo uscire dalla partita, uscire dal gioco e ritornare sul desktop. E stai certo che poi uscirà in questo elenco. Una volta fatto, prendiamo così il pallino sul valore consigliato, lo mettiamo su Prestazioni e facciamo Ottimizza. Ha disattivato un paio di cose, quindi in questo caso ha anche disattivato gli effetti persistenti, risoluzione di particelle, reflex, risoluzione rendering disabilitata e la risoluzione me l'ha messa su 1920x1080. Per non parlare anche delle ombre molto basse, texture molto bassa, qualità acqua disattivata. V-Sync disattivato, così facendo non bloccherà gli FPS ma li aumenterà. Una volta fatto, andiamo direttamente sul pannello di controllo di NVIDIA che tu hai lasciato in descrizione anche questo. Tasso destro su NVIDIA qua, pannello di controllo NVIDIA. Oppure semplicemente scrivi qua sopra, pannello di controllo NVIDIA. Oppure semplicemente NVIDIA CTRL PAN, questo qua. Vai direttamente su Gestition, Impostazioni 3D, Impostazioni Programma. Andiamo così ad aggiungere il gioco, vai su Sfoglia. Vai così a prendere il tuo gioco Call of Duty. Semplicemente andiamo su questo PC. Volume. Centro fino a giù fino a trovare la cartella di Steam, Libri, la libreria di Steam, Steam Maps, Com, Call of Duty. Centro fino a giù fino a trovare Code. Eccolo qua e faccio Apri. Una volta fatto, ridimensionamento immagine. Mettiamo disattivato e facciamo OK. Questo lo saltiamo. Questa quantità modalità mettiamo, escludi qualsiasi impostazione dell'applicazione. Scendi fino a giù fino a trovare il filtro inisotropico. Metti, questo mi dice consigliato 8x. Avendo la scheda grafica tra le 70, il filtro inisotropico mi dice di metterlo alto. Io lo metto su 2x. Però poi avrai problemi a vedere, renderizzare bene la distanza da lontano. Quindi avrai problemi a vedere anche i nemici. Filtro struttura, restringimento a bordi. Filtro struttura, diminuzione campione, disattivato. Filtro struttura, qualità. Questo lo mettiamo su prestazioni elevate. Motalità bassa latenza mettiamo Ultra. Se c'è occasione ambientale nel gioco, tu devi disattivare questa opzione. Ottimizzazione con Triad mettiamo Automatico. Signalizzazione verticale, il V-Sync lo mettiamo disattivato perché noi non dobbiamo bloccare gli FPS. Tecnologia Monitor, compatibilità G-Sync. E poi la più elevata disponibile. Una volta fatto devi fare Applica. Quindi una volta eseguite tutte queste impostazioni andiamo direttamente sul gioco. A modificare anche le impostazioni direttamente sulla qualità video e sullo schermo. Io il gioco lo avvio in, vado direttamente su proprietà, generali. Lo avvio in modalità, trattino, DX Level, spazio 90, Direct DX 9. Questo lo uso per non avere problemi di caricamenti, ritardi, crash e anche problemi all'avvio. E faccio gioco. Grazie. Ci diamo così il gioco dove, quindi vado direttamente su Call of Duty Warzone. Qui non posso cambiare nulla perché la grafica mi dà solo questo. Quindi devo per forza cliccare un Call of Duty e riavviare. Grazie. Vai direttamente sulle impostazioni, quindi impostazioni qua, impostazioni qua sopra, grafica. La grafica che io uso sul gioco, ovviamente vai su Qualità, se tu disponi di NVIDIA DLSS, metti NVIDIA DLSS. Obiettivo Scala VRAM lo tengo su 70. Isoluzione Texture lo metto su normale. Filtro Texture Anisotropico, questo lo tengo bassa. Passa qua sul livello Qualità Dettagli, molto bassa risoluzione particelle. Impatto proiettili che non mi interessano proprio, di proiettili sulla parete. Effetti persistenti, metto no. Qualità Shader, questa la tengo bassa. Streaming Texture On Demand, metto minimo. Mostra di più. Dimensioni, Allocate, Cache Texture. Limiti Download, quindi andrà a scaricare le texture. Quindi io lo tengo su minimo. Qualità Streaming Texture Locale, metto normale. Qualità Ombre, le ombre le vedrai lo stesso, ma non nitide, ben renderizzate, buona qualità. Le tengo su molto bassa. Ombre su schermo, metto no. No, bassa. Tassellatura, metto no. Qualità Volumetrica, metto media. E basta, questo è. Applica Impostazioni. Su Video, invece, solo per schermo intero, metto schermo intero, senza bordi. 1920x1080. Per Impostazioni in modalità Eco, metto Efficienza. Using No. Using Menu, metto no. E faccio Applica Impostazioni. Applica Impostazioni. Quindi, se riscontri problemi, commenta sotto al video. Per non avere problemi di crash, bisogna fare più FPS. Quindi, più FPS facciamo, più non abbiamo problemi di crash e problemi all'avvio. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Noi.